e ciao bella gente drette sette e anche in cioi un piemonteis vla cuntumi moche in cioi fuma proprio la cunta già vei mostrare venge io vi presento quando è spia la margherita e as fa mamma non mamma mamma non mamma per capire se l'altra persona a non vuole bin e più montai se s'inventa una storietà abbastanza similar per capire com'è che sarà il domani per le figlie soprattutto scute da bin fuma la cunta povera monaca ricca sposa bella figlia porcheria pentu pennetta come dire è una progression discendente abbastanza evidente e come si faceva questa cunta non con le margherite non con i fior ma cui buttum delle maie e delle camise levi una maia o una camisa addosso allora provu ma insieme dai provu conmi con la mia allora ripetuma povera monaca ricca sposa bella figlia porcheria pentu a mia un vent pentu o der magi sempre mei che pendetta però insomma il più sembri fuori a quel cosa d'altro sarei stata più contenta e un fu rifletti ancora sem passaggi pentu pennetta una maniera per dire una cosa da poco no varie espressioni colorai sono in Piemonteis per individuare una cosa da poco del pentu, della lipa, della percia, del bleciu, del menga, del baium disuma è un'espressione un po' più infelice perché ricorda purtroppo la tragedia della diga del baium però assenta a sdiz quindi ve lo riportà tante tante espressioni tutte colorai per dire una cosa sola da poco eh purtroppo abbiamo lì fuori dalla camisa che sono pennetta da poco conmi però non è vero, è il problema della camisa basta cambiare camisa e tutta srangea gioia anche voi auti e raccomando parli ai Piemonteis ciao a domani ciao a domani